Più che altro cercheremo di capire, nei limiti del possibile, perché lo spiego io, quindi non è proprio facilissimo capire, cercheremo di capire che cosa succede se la temperatura del nostro pianeta andasse aumentando col ritmo con cui è aumentata in questi ultimi periodi fino ad arrivare a 6 gradi, quindi all'estinzione della specie umana. Io fino a qualche anno fa ero terrorizzato dall'estinzione della razza umana, ora non vedo l'ora che succede, per cui vediamo intanto quali sono le condizioni che ci portano fino a là, poi se c'è qualcuno che riuscirà, io faccio sfidamento ai giovani del venerdì, se c'è qualcuno che riuscirà a mettere mano a questa situazione e a cercare di dargli una sterzata verso condizioni migliori, gliene sarò grato per conto dei miei nipoti, però chi può dirlo?